Il più affascinante e misterioso balletto romantico ad Arezzo, al Teatro Petrarca, è infatti andato in scena il Lago dei Cigni sulle musiche di Ciecoschi. Lo spettacolo fuori abbonamento fa parte della stagione teatrale proposta dalla Fondazione Guido d'Arezzo assieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Ollus e al Comune Aretino. Protagonista il balletto del Sud in una rivisitazione di successo di Freddy Franzutti, oggi uno dei coreografi più apprezzati nel panorama internazionale. Il clima romantico che si respira dall'inizio alla fine del balletto proviene da un filone della letteratura mitteleuropea che Franzutti fa proprio con citazioni disseminate nella drammaturgia del balletto. Il risultato sorprendente ed emozionante. Il risultato sorprendente ed emozionante.